Stasera siamo qui con Marcello Marcini, il quale si occupa di formazione per gli imprenditori e quindi chiederemo a lui quali sono i consigli che può dare a noi dentisti, che siamo comunque degli imprenditori, per migliorare le performance nei nostri studi e per migliorare ciò che possiamo dare al nostro pubblico, quindi ai nostri pazienti, per avere successo? Allora è una domanda molto interessante, innanzitutto perché il successo è una parola molto complessa di queste, la definizione di successo dal mio punto di vista ad esempio è participio passato che deve succedere, cioè che cos'è il successo? È raccogliere i frutti di quello che si è assieme anche, perché poi ognuno il successo è talmente soggettivo nella sfera personale e professionale. Se stiamo parlando di imprenditoria, di fatto un dentista altro, non è che un imprenditore che vende il suo A.O. in pubblico e penso che quindi le caratteristiche per chi fa impresa a prescindere che siano artigiani o comunque si venda un bene fisico o comunque un servizio come quella della professione di un dentista, meno male siano abbastanza le stesse. La prima cosa penso che sia avere un'azienda cliente centrica, e cioè pensarla costruendola partendo dal punto di vista del cliente finale. Io ovviamente sono utente di un studio dentistico e quindi magari vedo, avendo un po' l'occhio clinico di chi fa impresa in un settore della formazione, cosa funziona e cosa no. Spesso magari vedi persone che hanno un po' più di paura e vedi invece che magari da parte del professionista non c'è quell'empatia nel capire cosa prova la persona che è dall'altra parte. Quindi penso che innanzitutto per questo tipo di impresa la comunicazione efficace sia un aspetto fondamentale. Dall'altra parte l'innovazione, nel senso che ciò che funzionava decenni fa oggi non funziona, probabilmente tra qualche anno l'intelligenza artificiale cambierà le carte in tavola, probabilmente ci saranno delle macchine che sostituiranno alcune parti di ciò che fa l'uomo. Lo stanno già facendo. Esatto, ma c'è penso una cosa che la macchina non può mai cambiare che sono le emozioni. Quindi costruire una relazione molto forte con il cliente penso che sia quello che nessuna macchina, nessuna intelligenza artificiale possa cambiare. Le persone non si ricordano cosa gli hai detto ma si ricordano come le fatti sentire. Quindi questo vale penso in un settore come il vostro, penso che sia comunque complesso, ci sono veramente tantissime sfide, tantissimi competi, tantissime persone che si mettono in questo settore, ma quando l'azienda la si pensa, ma nella cliente c'è che si costruisce una comunicazione che tenga conto in maniera empatica della persona che è davanti, questo possa comunque costruire una fidelizzazione che poi è l'asset più importante per chi fa impresa. Quindi cosa consiglieresti al dentista per imparare a comunicare in modo più efficace? Paradossalmente la comunicazione più efficace poi è l'ascolto, nel senso che può sembrare strano, ma ascolto che non vuol dire sentire, ma vuol dire proprio cercare di comprendere ciò che non viene detto, cercare di capire ciò che c'è prima della domanda che ci fanno. Cioè quando uno ci fa una domanda molto spesso c'è un pensiero dentro della generale, e a volte è più importante capire il pensiero che ha generato la domanda oltre che la domanda stessa. Ci sono tanti libri, ci sono tanti corsi, quindi sicuramente per il mestiere di un dentista, ma come tutti i professionisti che operano e che lavorano nell'ambito clinico, penso che sia importante per loro, ma ce ne sono tantissimi che conosco di professionisti, di non dedicare solo il tempo a una formazione tecnica e specialistica per capire come si mettono le mani nella bocca delle persone, ma anche come si dialoga, come si comunica. E' tutta altra storia che ha a che fare con le soft skin, quindi magari si parte dal libro o si fa un rincorso e si va avanti. Benissimo. Quindi ringraziamo Marcello Mancini e ci vediamo presto. Saluti a tutti e a voi di YourBender Coach. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.